La Lega sarà sempre alternativa a Renzi e a Grillo, non faremo mai accordi con la sinistra a nessun tipo di livello, spero che nessuno che si dice di centrodestra pensi a strizzare l'occhio a Renzi e ad Alema Bersani. La Merkel in questo momento per l'Italia rappresenta disoccupazione e immigrazione fuori controllo, quindi qualcuno dovrà scegliere con i tempi che riterrà opportuni se il futuro passa dalla Lega, passa dai popoli, passa dagli italiani o il futuro passa dalla Merkel, dalla BCE, da Strasburgo e da Bruxelles.